Ok, vediamo se lo prendo, vediamo se lo prenda... L'ho presa! Brava, buon amico mio, hai fatto la macchina? Bravo, bellissima, guarda, guarda. Capito, ma non ti arrabbiare, è un complimento, vai. Oh dai. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È la nostra prima morte. Ora mi spiegate come diavolo faccio a prendere... Ah, ecco. Eh, ovviamente non ce l'ho uscita. Ok. Raga... Guardate la posizione di yoga del padre di Nuke. Deve insegnarmela. Deve per forza insegnarmela, perché è strafiga. Ovviamente però è morto, ma non si vede. Madonna, a questo momento... Ok, iniziamo il prossimo livello. No, zonboling. Il prossimo livello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, l'ultimo zombie. Fine! E' questo livello molto movimentato. Ho vinto. Guardate, gli occhi si muovono. Guardate quanto cavolo è lungo. Cavoli, raga, cavoli, cavoli, cavoli. Abbiamo vinto. Proprio un attimo ma abbiamo vinto. Cavoli ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Novo record, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo... Almeno abbiamo superato il livello 2. E' questo l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. E' questo l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. E' questo l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. sono un'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. ahhh Ah, hai parcheggiato la macchina, bravo, se sei parcheggiato è proprio benissimo. Ciao! No, che fai? Mi smonti la terra. Non ho capito cosa vuole fare. Sta facendo... Un tubo, grazie! Sembra Happy Wheels, raga, sembra Happy Wheels. Sì, nessuno vorrebbe morire così, in questo modo crudele. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace qua sotto, o nella pagina di Facebook, Mr. Mario TV. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo... E noi ci rivediamo in uno prossimo speciale. Bella, ragazzi! Ciao! 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 Ciao!